Enercom vuole proporre nuove soluzioni per i propri clienti business presentiamo EnerLED la soluzione volta all'efficientamento tramite la tecnologia LED con EnerLED si ottiene il miglioramento del livello di illuminazione sia in attività industriali sia in realtà civili con una particolare attenzione alla riduzione dei consumi la proposta prevede 5 fasi il sopravluogo tecnico per il censimento dei corpi illuminanti e la verifica dello stato dell'impianto un'analisi luminotecnica con valutazione dei consumi un progetto illuminotecnico e scelta della soluzione più adatta una valutazione tecnico-economica dell'intervento un'offerta per la fornitura chiave in mano del nuovo sistema di illuminazione con EnerLED quindi approfitti di tutti i vantaggi della tecnologia LED per saperne di più richiedi la visita di un business assistant Enercom e ricorda parla con chi può aiutarti davvero un'offerta per la fornitura